Sono passato il rumore tantissimi mesi dall'episodio che ha reso 1727 virale Che come tutti voi ricorderete riguarda lo schianto contro il muro La meme del ho preso il muro fratelli Che l'ho reso veramente popolare in tutto quanto il continente Tanto che adesso come raccontò il faccio del paragone del lavoro che faceva prima E di quello che fa adesso La sua vita è sistemata e ha voluto ricordare questa cosa ripassando per quelli che ho scelto la sua fidanzata alla Georgia Non aggiungo altro quindi ma vi lascio le stories Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video in linea Vivi la vita per come viene ma cerca di essere una persona per bene Bello fratelli A me sinceramente non interessa tanto che tu mi dici Ti sei sistemato Io pulivo i cessi Pulivo la merda nelle palestre Non c'avevo manco quei 20-30 euro da potermi giocare In cose che magari dici Io sto a buttare 20-30 euro ci provo Oppure sto investendo 20-30 euro ci guadagno Terza marcia fratelli Eccolo Quando il semacolo è rosso si fa così Si fa così fratelli No Terza marcia pure te fratelli Oggi ho preso il muro fratelli Oggi ho preso il muro fratelli Non Non No Non Non Sì, sì, sì!